In Turchia, arrestati almeno 118 membri del partito filocurdo HDP in relazione al doppio attentato di sabato sera a Istanbul. Tra le persone finite in manette ci sono i responsabili provinciali di Istanbul e Ankara della formazione politica, che pure ha fermamente condannato l'attacco. Da oltre un mese sono detenuti, con accuse di legami con il PKK, anche 10 deputati dell'HDP, tra cui i due leader del partito. Intanto sale a 44 morti, in maggioranza poliziotti, il bilancio del doppio attentato suicida, che è stato rivendicato dal gruppo estremista kurdo TAK, falchi per la liberazione del Kurdistan, presunto responsabile anche delle autobombe di febbraio e marzo contro la polizia ad Ankara. Le esplosioni di sabato sono avvenute quasi contemporaneamente davanti allo stadio del Besiktas, due ore dopo una partita, e a Gezi Park, nelle vicinanze. Otto degli arrestati sono accusati di propaganda terroristica per dei post pubblicati sui social network.